Incominciamo? Si incominciamo Ti vede il culo? Ti da problemi la tua vera? Ok rifallo prima Oh cazzo Nooo Ho fatto così Ha mostrato tutto il culo Non ti vede niente Eh infatti Te la maglietta mi dispiace No dove c'è la luce? Aspett Lo stai facendo? Aspett Yo Non c'è gente Ma io Ma io Che cosa devi fare? Fermala Eh basta che mette E' spugneto Non si vede niente No 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 ... ... ... ... BATERIA PASSO un'azienda, 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 un'az no 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 No, una bruttissima, ma io le farò lì No, ciao